Allora, da inizio l'anteprima di San Martino, il professionista Saverio, tecnico del mestiere, gli fa vedere lo spiedo col pelotto. Guardate che sceneggiata, cose di altri tempi. Questa è la prima ondata. Guardate, guardate, è una poesia. Sta arrostendo il culetto di una beccaccia, detto becco lungo. L'espressione soddisfatta dell'artista e dell'artefice di questa sceneggiata. Qui ci sono le cartucce di Angelo. È una collaborazione da veterani cacciatori. Angelo detto Chiova e Saverio detto anche Chiova perché quando Chiova lo mette in chiodo pesante lui e Saverio il tiratore folle. Saverio detto Borrelli perché lui dice sempre che è giusto. Guardate, guardate, ammirate, ammirate. Ragazzi, noi non sappiamo che dire. Dopo una tagliatella a base di funghi, un arrosto di cacciagione, vino novello, una graticola di caldarroste e con l'anteprima di San Martino di Casa Vacanze Picocchia. E San Martino verrà fatto a breve tempo e faremo la chiusura. Con il doppio di Selvaggina. Ecco, lo sentite, lo sentite dell'artista e con l'artista. Ecco, no, no, non è finita. Sterminatore. Adesso chiudiamo perché la sceneggiata ci rimane e la degustazione. Ciao ragazzi.